Io quando vado in settimana bianca, per esempio, tra una sciata e l'altra, mentre salgo sulla seggiovia, rispondo ai messaggi o faccio domande ai miei collaboratori, gli faccio sentire che ci sono sempre. Ciao amici imprenditori, in questo video voglio parlare del rapporto tra noi e i nostri collaboratori sul campo di battaglia, nella nostra arena oserei dire, perché in quanto imprenditori italiani sappiamo perfettamente che siamo dei gladiatori, se riusciamo a sopravvivere nonostante la burocrazia, le tasse, i politici incapaci e tutte le difficoltà del nostro paese, ogni tanto probabilmente ci sentiamo un po' come massimo decimo meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, chi di noi non ricorda le parole pronunciate da Russell Crowe nel celebre film Il gladiatore? Ecco, in quanto gladiatori quindi dobbiamo sempre ricordare che il nostro habitat naturale è l'arena e se vogliamo che le nostre truppe, i nostri compagni di battaglia, i nostri manager, collaboratori restino al nostro fianco e diano l'anima per la nostra azienda, noi non dobbiamo mai abbandonare quell'arena. Questo non vuol dire che non dobbiamo mai staccare la spina e rilassarci, ma dobbiamo farlo con moderazione, con un profilo basso, come mi è capitato di sentir per dire qualche settimana fa da un imprenditore che ormai fattura oltre 100 milioni di euro. Spesso infatti mi capita di parlare con imprenditori che si lamentano perché i loro collaboratori non danno il 100% delle loro possibilità, non si sacrificano per l'azienda o molto spesso dopo essere cresciuti professionalmente colgono l'opportunità lavorativa in altre imprese. Magari però questi stessi imprenditori sono in giro con i loro Lamborghini, passano da una vacanza alle Maldive ad una settimana bianca a St. Moritz, staccano il telefono e si comportano come se fossero i primi dipendenti di se stessi. Ecco, se c'è una cosa che ai nostri collaboratori non piace e che li allontana dalle nostre aziende è proprio doversi sacrificare per un capo che si gode la vita mentre loro devono sgobbare per tirare la carretta. Se vogliamo collaboratori che si sacrifichino per noi, che siano fedeli, dobbiamo essere i primi ad entrare nell'arena e gli ultimi ad uscirne, a lottare con loro, a sudare con loro e a dedicare tutta la nostra energia affinché l'azienda raggiunga gli obiettivi che ci siamo prefissati, condividendo con loro le gioie e le ricompense del nostro lavoro. Ripeto, questo non vuol dire non andare mai in vacanza o non guidare autosportive. Con queste parole intendo dire che i nostri collaboratori devono sentire sempre la nostra presenza, anche quando siamo in vacanza. Devono sapere che noi siamo sempre disponibili e pronti a fare quello che c'è da fare, perché siamo i primi disponibili a sacrificarci per la nostra azienda. Dovremmo abituarci a non chiedere a qualcun altro quello che non saremo disposti a chiedere prima di tutto a noi stessi. Questo potrebbe essere un modo per sintetizzare questo ragionamento e sviluppare nei nostri collaboratori la fedeltà che serve per creare relazioni a lungo termine, quelle relazioni che permettono ad un'azienda di crescere, di far maturare le persone internamente, soprattutto fare in modo che una volta cresciute queste persone facciano carriera all'interno dell'azienda, senza disperdere il nostro know-how o disperdere energia in costanti cicli di turnover che ci obbligano ogni volta a ripartire da zero, tornando sempre a selezionare nuovi collaboratori. Se vogliamo collaboratori fedeli ed affidabili, facciamo in modo di essere sempre nell'arena con loro. Lo percepiranno e saranno i primi a sacrificarsi per coprirci le spalle e rimanere con noi anche durante i momenti difficili e vincere insieme le sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare. Per oggi direi che è tutto e ci vediamo al prossimo episodio di Una vita d'impresa.